Grazie a tutti. Inizia l'autunno, quindi bye bye, ciao ciao, estate. È stato bellissimo, ma anche l'autunno è una stagione stupenda, vero regia? Ringrazio Francesco Di Carlo, Enrico Tassotti e Simone che sono presenti ad accompagnarmi per questa puntata, per questo pomeriggio. Ah, che bella foto, vedete? I colori dell'autunno, giallo, rosso, arancione, colori caldi che rappresentano anche una fase ed è giusto che sia così. Quindi la bellezza si riperpetua un po' ovunque, la ciclicità della natura e andiamo a vedere proprio nel primo blocco come poter carpire il meglio da questa stagione, che cosa accade proprio in questo periodo e che tipo di ricarica ci serve, ritornando ai buoni propositi di Riccardo Zucchero, per poter stare bene con il nostro corpo, con la nostra mente e ricaricare soprattutto il nostro sistema immunitario, che deve essere attivo, bello energico, saldo e forte. Bene, bene, bene. E oggi è anche la giornata internazionale del gioco della gentilezza per i bambini, tu pensa, e andremo ad affrontare questo argomento. Poi ecco, ho trovato tutte persone sempre gentili e disponibili, quindi chiudiamo i nostri cerchi, come ogni pomeriggio. Grazie perché state inviando i vostri video, perché se siete degli artisti, degli artigiani, amate un hobby, sapete creare, sapete riciclare, quindi proprio concretamente create qualcosa oppure avete delle idee o ballate o pitturate o suonate uno strumento particolare, insomma, mandateci il vostro video. Un minuto, un minuto e mezzo, ho già montato dei pezzetti da montare, dopo ci pensiamo noi, non è un problema. E pur parli, mette in onda la vostra creatività, perché esaltiamole a creatività come una grandissima azione di consapevolezza, di bellezza, di ricerca di bellezza, il numero è 3929441132. Mi raccomando, memorizzatelo e potete inviarci i vostri video. Verrete ovviamente messi in onda, in diretta, e se vorrete potete anche venire qui, nel salotto della chiacchierata. Com'è venuta lei, ma prima di dire il suo nome, do la linea alla regia per il promo Vinci Veramente. Con Vera TV, Vinci Veramente. Invia i codici alfanumerici con sfondo rosso che compariranno ogni giorno in sovraimpressione durante le trasmissioni di Vera TV. Potrai vincere una Fiat 500 ibrida. Partecipare è facile. Entro 30 secondi dalla comparsa del codice, spediscilo al numero 349 36 62 246 o via sms o whatsapp. Più codici invii, più probabilità hai di vincere la Fiat 500 ibrida. Gioca anche tu con Vera TV. E Vinci Veramente. Regolamento sul sito veratv.it Mandate tantissimi messaggi quando arrivano i serpentoni, mi raccomando, ci sono sempre in paglio tanti bellissimi premi, si vince veramente, quindi partecipate numerosi e memorizzate i numeri giusti. Come dicevo, è arrivata anche lei con questa luce, questo alone, questa aura di dolcezza, di purezza, di sorriso, di gentilezza, di concetti naturali. Perché lei è così, è naturale in tutti i sensi, predica i paradigmi del naturale. Ritornando un po' indietro nel tempo, magari è proprio questo è quello che dobbiamo riscoprire. Il vero valore. Il valore del domani non saranno forse più i soldi o il potere, ma forse capiremo bene che è il nostro tempo speso nel giusto modo. E forse i nostri antenati questo lo avevano già capito. E vabbè, non ci rimane che presentarla, la nostra Cristina biologa, dottoressa Cristina de Berardinis. Grazie Manu, grazie per il tuo invito e sono felice di accogliere l'autunno qui tra le mura della tua trasmissione dove ormai siamo quasi di casa. Come è trascorso quest'estate? L'abbiamo trascorsa in maniera molto divertente, abbiamo continuato a lavorare però anche a viaggiare. Abbiamo iniziato a ripartire, diciamo che questo è un momento un po' cruciale, quasi per tutti. Dopo tanto stallo, tanta incertezza iniziamo a fare nuovi progetti, nuovi programmi appunto. Un po' in tema anche con quello che è l'autunno, che è un po' il periodo dei bilanci. Ho la parola chiave, bilanci, bilancia, ma prima vorrei commentare con te la frase del giorno, che accuratamente, calorosamente, appassionatamente sta selezionando Francesco Di Carlo. Ma che bella, finché ci sarà l'autunno non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. Ma questo è un po' il sentimento che scatta a tutti con l'inizio dell'autunno. Eh sì, perché la natura con tutti i suoi colori inizia a cambiare, a colorarsi, ci dà anche un po' di fiducia nei confronti di quello che sarà l'inverno come grigiore del cielo. Ci riscalda un po' la bilancia, ci prepara. E a livello proprio globale cosa succede? Noi sappiamo che la Terra ha un'inclinazione terrestre e in base al ciclo intorno alla stella solare ci dà quelle che sono le stagioni. Quindi, come sappiamo, c'è la primavera, l'estate che abbiamo appena terminato, l'autunno e l'inverno e tutto viene esternato con quelli che sono i cicli naturali della Terra. E oggi stiamo passando letteralmente dalla stagione estiva, quella autunnale, quindi le temperature tendenzialmente tendono ad abbassarsi. Qui possiamo vedere appunto questo ciclo della Terra intorno al Sole e le sue inclinazioni che determinano a livello proprio di manifestazione della natura quelli che sono le stagioni. Quindi un passaggio tra una stagione e l'altra abbiamo quelli che sono i solstizi, ovvero quando il Sole è più fermo, sembra quasi essere stabile, o durante il periodo estivo, durante il giorno, o d'inverno, durante il periodo della notte. Mentre gli equinozi tendono a portare quella equità. Quindi di conseguenza le giornate più lunghe. Esattamente, col solstizio il Sole sembra stare fermo, sia di giorno durante l'estate che durante la notte d'inverno. Mentre gli equinozi parlano di uguaglianza, e infatti le ore di giorno iniziano a diventare uguali per durata alle ore della notte. E a livello invece astrologico, guardando dalla Terra, quindi quello che abbiamo visto è una visione eliocentrica, quindi il Sole al centro e la Terra con il suo movimento. In astrologia andiamo invece a vedere come appare il cielo dalla Terra. Quindi la visione terrestre ci mostra, durante il periodo dell'equinozio, come possiamo vedere nella slide, che il Sole, quando l'osserviamo, non si trova più a dimora della costellazione della Vergine, ma sta passando nella costellazione della Bilancia. E sin dall'antichità, come hai avuto modo di accennare anche tu, diciamo che veniva preso un po' come metro, ovvero l'asservazione dei pianeti riuscivano a determinare in che periodo poter coltivare, poter effettuare il raccolto. E il passaggio che va dalla Vergine alla Bilancia è quel periodo in cui i nostri antenati, ma anche noi possiamo fare nuovi propositi, andiamo un po' a fare il conto. L'estate è ricchissima, ci ha portato tanta frutta, tanti ortaggi, e in questo periodo dobbiamo razionarli per il periodo invernale in cui la Terra si addormenta e non ci dà più gli stessi frutti ricchi di zuccheri, zuccherini come la frutta o gli ortaggi. Quindi nel periodo della Bilancia, quindi appena entra l'autunno, quello che facevano era proprio razionale le provviste che si erano appunto create durante tutto il periodo ricchissimo dell'estate, che è quando la Terra porta a maturazione i suoi frutti. E da qui, quindi, la Terra inizierà a produrre diversi alimenti, oltre al fatto che si abbellirà, come abbiamo appena visto, di un colore straordinario, perché la linfa delle foglie, la linfa degli alberi non va più a nutrire le foglie, cambiano colore, come possiamo vedere, iniziano ad ingiallire e a decorare questo periodo straordinario. Sì, perché adesso più che mai se azzardi un weekend fra i boschi e le montagne rimani colpito, cioè proprio catturato da, inevitabilmente, è anche il rumore delle foglie che cadono. Il rumore, il profumo... È comunque un'atmosfera piacevole. Tutto questo sta a indicare la ciclicità della natura, indica una ciclicità ben precisa che ci insegna tanto, Cristina. Assolutamente sì. E la Terra inizia anche a cambiare i suoi frutti, non abbiamo più molta frutta, se non le pere, le mele e via dicendo, ma ci sono anche tanti altri ortaggi. Abbiamo il cavolo, che è ricchissimo di sali minerali, è ricchissimo di sali minerali, con un basso contenuto di potassio, così come la barbabietola o la verza, che sono dei forti depuratori. Quindi anche alimenti ricchi di vitamine, come il limone, sono tutti ingredienti, tutti nutrienti, che da una parte vanno a sostenere il nostro sistema immunitario, visto che andiamo verso il freddo, ma vanno anche a depurare il nostro organismo. Infatti da turno possiamo depurare il corpo da tutte quelle che sono state le grandi mangiate, le grandi abbuffate dell'estate. Oh, questa è una bella slide. E non a caso, alcuni di questi alimenti, così come l'uva ricchissima di resveratrolo, sono alimenti che, tra l'altro, supportano il benessere dei reni. È fondamentale, perché, ritornando al discorso della depurazione, i reni sono quelli che permettono di espellere, giusto? La tossicità che noi catturiamo. Esatto, hanno tre funzioni. Quello di filtrare il sangue che trasporta sia i nutrienti che i sottoprodotti del metabolismo, riesce ad assorbire quelli che sono i nutrienti di cui abbiamo bisogno e la cosa interessante è che, come possiamo vedere da questa slide, appunto, c'è una forte correlazione tra i reni e la bilancia come segno astrologico. Abbiamo visto che si assomigliano, come puoi vedere a destra, vediamo quello che è il glifo, ovvero il simbolo che rappresenta la costellazione della bilancia. È un simbolo che ci trasmette armonia. E i reni sono quell'organo deputato alla regolazione dell'omeostasi. L'omeostasi è un termine particolare che in biologia significa proprio l'equilibrio cellulare, l'equilibrio fisiologico, ovvero nel nostro corpo ci deve essere questo, appunto, equilibrio tra tutto ciò che andiamo a ingerire, a respirare, sia con gli alimenti che con ciò che il nostro corpo proprio produce in reazione a quello che è il fabbisogno metabolico e ad espellere tutto ciò che non ci serve. Viene da sé la logica del ragionamento nel pensare che quando tu introduci dall'esterno tutto quello che in realtà non ti porta a creare un'omeostasi giusto, un equilibrio giusto, il corpo va in sovraccarico. Bravissimo. E quindi soffre a lungo andare se tu immetti stress, se immetti qualcosa che non produce benessere, se immetti una benzina che non fa bene il corpo, se hai, ecco, penso al vizio del fumo o comunque dipendente da mangiare. anche il semplice stress che sta diventando la malattia del secolo a parte di questi ultimi anni. Io ascolto e personalmente mi capita di sentire questa frase sono stanco, dormo ma sono stanco. Da che cosa è causato, dottoressa? Da che cosa è causato? Ottima domanda. E qui torniamo alla correlazione un po' del tema della giornata che è appunto la bilancia la bilancia come segno astrologico e correlazione con i reni che sopra sono incoronati, mi piace definirlo così, da quelle che sono le nostre ghiandole surrenali. Le ghiandole surrenali producono degli ormoni fondamentali così come tu hai detto di depurazione perché comunque i reni regolano anche quello che è il pH del nostro organismo e quindi ci donano il terreno favorevole per permettere alle nostre cellule di soddisfare tutte le loro esigenze metaboliche. I reni sono delle ghiandole che producono tra l'altro anche l'ormone dello stress, il famoso cortisolo che viene preso un po' come in maniera antipatica ma in realtà è un ormone che ha garantito la nostra sopravvivenza. tutto quello che è il risultato finale della nostra evoluzione è il segno che tutto ciò che abbiamo serve a qualcosa. Quindi anche il cortisolo che adesso come ci è accennato sta diventando una delle malattie del secolo perché è causa di stress in realtà aveva una funzione fondamentale quello di non essere tanto spericolati da rischiare la nostra vita della serie se ci troviamo di fronte a un burrone il cortisolo ci dà il segnale di prendere delle precauzioni così come se ci trovassimo di fronte a un orso quindi non ci fa produrre dopamina quindi l'ormone dell'affetto e quindi andiamo ad abbracciare questo animale magari inferocito ma il cortisolo ci fa avere fondamentalmente tre reazioni quella di paralisi quindi di fronte alla paura ci si blocca quello di fuga quindi per spostarci dalla condizione di pericolo o quella di attacco e questo ormone è vero che ha permesso la nostra sopravvivenza ma oggi lo produciamo alcune persone lo producono in maniera più abbondante ma più che altro continuativa nel tempo pensa che mi pare che in qualche puntata già l'abbiamo accennato che basta la notifica del cellulare per metterci in allerta perché magari l'associamo a qualcosa di poco piacevole o semplicemente il fatto di mettersi alla guida guidare la propria auto magari passa un gatto ci spaventiamo produciamo il cortisolo che rimane nel nostro corpo per ben quattro ore in quelle quattro ore il nostro corpo come informazione predominante c'è quella di non dare la priorità a tutti i sistemi che al momento sono secondari quindi la priorità va al sistema nervoso centrale per elaborare una risposta ai muscoli che ci servono per scappare o aggredire per quelle reazioni che abbiamo detto e passano in secondo piano il sistema immunitario il sistema riproduttore quello digerente che in quel momento non hanno una priorità assoluta come messaggio del cortisolo ormone significa proprio messaggio quindi ogni ormone porta un messaggio alle nostre cellule e se noi siamo continuamente sottoposti al messaggio del cortisolo iniziamo a sentire conseguenze esatto tra cui anche appunto la stanchezza perché magari non assorbiamo bene i nutrienti non ossigeniamo bene il nostro cervello e di conseguenza abbiamo questo effetto ma come sono le foglie che si rigenerano noi possiamo in qualche modo togliere quella parte secca e farla cadere si detossinare si detossinando il corpo e iniziamo riprendendo quella meravigliosa tabella di prima regia ah che belli bravi reggi oggi mie emozioni sono tutti argomenti che comunque attichiscono in qualche modo piacciono a tutti anche perché poi quando tu stai bene che sei a livello con tutte le energie e riesci a metterle in pratica hai una forza hai un'energia che te ne accorgi la differenza assolutamente mettiamo la tabella appunto per ritornare al discorso detox del corpo di come andiamo a sovraccaricare le nostre strutture e i nostri organi e soprattutto andiamo ad aumentare il cortisolo quindi noi ci possiamo aiutare intanto togliendo tutto ciò che ci infiamma e che ci causa il cortisolo è un'operazione complessa ma giorno dopo giorno ci si riesce e soprattutto dobbiamo aiutarci immettendo cibo corretto tutto ciò che utilizziamo in cucina e quindi anche ciò che scegliamo di mangiare ma io partirei ancora prima ciò che scegliamo di mettere nel carrello della nostra spesa è determinante perché ovviamente se abbiamo a disposizione in casa quegli alimenti poco sani per il nostro organismo io colpevoli in prima persona so che vado lì e me li smangiucchio mentre è vero scegliere ma scegliere già alla base quindi quando noi allestiamo il nostro frigorifero o la nostra dispensa possiamo fare tanto possiamo fare perché sono gli alimenti che determinano azzarderei l'ottanta ma diciamo il sessanta per cento di quello che sono le nostre condizioni di salute quindi se io voglio avere un approccio salutare posso ricorrere a tante cose come l'attività sportiva i rimedi naturali ma se di base non vado ad alimentare il mio organismo dei nutrienti che supportano la mia salute difficilmente le cose cambieranno io lavorando con gli oli essenziali ascolto molte persone che mi dicono voglio utilizzare un olio una soluzione naturale per una determinata situazione ma se io continuo ad alimentare le infiammazioni ad esempio dando la benzina sul fuoco con tutti quelli che sono gli alimenti pro-infiammatori non c'è olio essenziale che tenga ma così come altra soluzione il cibo è veramente alla base come diceva Ippocrate fa che il cibo sia la tua medicina quindi si parte proprio da lì i cibi autunnali andiamo a vedere uno dopo uno quelli che possono essere i riparatori per prepararci soprattutto all'inverno che sarà rigido che sarà importante perché dobbiamo sconfiggere definitivamente il coronavirus e tutti gli altri virus e quindi tenere alta anche la difesa attraverso il nostro sistema immunitario che ormai abbiamo imparato con il giusto nome definirlo microbiota perché è un organo a parte è un organo a sé certo e poi la cosa interessante è che in antichità avevano appunto già compreso tutto questo e il sottile collegamento che c'è proprio tra quello che è presente sul terreno e quello che invece è possibile osservare dalla terra verso il cielo anche noi con la religione ci sono delle preghiere che dicono come tutto ciò che è in cielo è così in terra e quindi l'osservazione ha aiutato molto i nostri antenati quando non avevano gli strumenti analogici che possiamo utilizzare oggi come la chimica la biochimica e tutti gli strumenti che fortunatamente la medicina oggi ha la possibilità di utilizzare e la bilancia non a caso è una costellazione che ha come governatori ogni costellazione ha il suo governatore planetario Saturno e Venere e ogni pianeta rappresenta un significato ha un significato il sole è la creatività la personalità Mercurio sono le funzioni intellettive la Venere è proprio la bellezza l'armonia abbinata a Saturno che è anche lui viene visto in maniera un po' negativa poco positiva perché spesso rappresenta proprio la privazione di qualcosa un po' come gli alberi oggi che perdono le foglie si privano di qualcosa ma non è una perdita è una perdita utile quindi il Saturno è una preparazione alla rinascita bravissima le piante perdono le foglie perché non hanno più bisogno di investire le energie su quell'organo ma le energie devono essere dirottate verso altre priorità e quindi la bilancia mette insieme proprio Saturno che è appunto il saper dosare l'armonia e la bellezza della Venere quindi la Venere e Saturno si sposano in questa costellazione e rappresentano proprio l'armonia e la bellezza ci sono tante altre piante che possono essere abbinate a questi pianeti quindi con Saturno abbiamo gli alberi fondamentalmente gli alberi possenti altri che danno struttura così come la da Saturno Saturno cambia la forma agli alberi alla chioma degli alberi per dare qualcosa di funzionale e Venere la bellezza invece è rappresentata dai fiori quindi sicuramente dal punto di vista anche dell'aromaterapia possiamo combinare oli essenziali sia di alberi che di fiori in questo particolare periodo dell'anno quanto c'è di naturale effettivamente oggi nel naturale nel senso perché noi cerchiamo di indagare di prendere spunto da quelli che sono sempre stati gli antidoti e la ricerca farmaceutica attraverso lo studio delle piante dei fiori e degli oli che in qualche modo hanno portato poi alla creazione di ciò che oggi è il farmaco quindi c'è chimica c'è biologia c'è fisica ecco fino a che punto oggi un olio essenziale è proprio prodotto della natura e un integratore prodotto proprio della natura e non una riproduzione in laboratorio di quel prodotto naturale facciamo un po' di distensione per capire che oggi entri in farmacia in erboristeria e ti trovi davanti a tanti prodotti è una domanda molto interessante molto interessante perché il mondo nel naturale è un mercato che sta avendo una grande crescita soprattutto in questo momento però possiamo fare un chiarimento noi sappiamo che la medicina prende le sue basi dalla natura ad esempio l'acido acetil salicilico la nostra aspirina è la copia della molecola che produce il salice come albero ok però c'è una questione e questa cosa mi è rimasta impressa proprio durante i miei studi di chimica che quando io vado a riprodurre una molecola che sia la vitamina C o l'acido salicilico è come se volessi andare a produrre in laboratorio una mano però se lo faccio in laboratorio produco sia mano destre che mani sinistre ok la natura in realtà produce solo mani sinistre cioè la disposizione degli atomi all'interno della conformazione della molecola vengono etichettate secondo quello che è lo spettro ottico la rotazione dello spettro ottico quindi in natura esistono solamente molecole che muovono la luce verso sinistra per raccontarla semplice e il laboratorio se voglia andare a produrre una molecola produrrà sia molecole che ruotano verso sinistra che verso destra e il nostro corpo sa che effettivamente le uniche funzionali sono quelle sinistre non sono le destre che vengono scartate dal nostro organismo quindi ovviamente è difficile produrre un integratore un qualcosa che sia al 100% naturale anche per una questione spesso di normativa proprio di normative legate proprio alla sicurezza di quel prodotto dall'altra parte possiamo noi come consumatori fare le nostre ricerche come l'ho fatta io per ad esempio l'utilizzo dei miei oli essenziali che quando e qui la fermo ti fermo dottoressa perché andiamo un attimo in pubblicità ma torniamo subito con il discorso degli oli li riprendiamo piacevolmente come l'anno scorso i nostri collegamenti per approfondire sempre meglio essere sempre più consapevoli in natura pubblicità ecco ci siamo tornati abbiamo lasciato un po' di suspense però riprendiamo il discorso da dove lo avevamo lasciato quindi effettivamente un po' di artefatto c'è nel naturale dottoressa Cristina qualcosa viene risimulato viene riproposto ma l'organismo comunque riconosce la parte naturale questo è importante corretto corretto perché comunque possiamo dire che per avere un prodotto naturale al 100% per un'impresa che produce prodotti naturali l'energia è tanta non solo ma soprattutto anche gli investimenti cioè il prodotto naturale in sé per sé non ha una resa come quella che è la chimica di laboratorio dove si mixano fondamentalmente degli ingredienti per ottenere un prodotto e come stavo anticipando la stessa difficoltà l'ho avuta io con gli oli essenziali mi sono avvicinata a questo mondo che non sapevo nemmeno cosa fossero e quello che mi ha sorpreso è proprio vedere come c'è una distinzione netta tra quelli che sembrano oli essenziali perché si mettono all'interno di un flaconcino di vetro col contagocce e quindi per associazione pensiamo può essere un olio ma come dicono i vecchi detti l'abito non fa il monaco quindi leggere l'etichetta è fondamentale anche per i prodotti naturali e con gli oli essenziali quindi la prima regola di un'etichetta ad hoc naturale quale sarebbe? non è semplicissimo diciamo che le etichette ci riportano delle informazioni che dal punto di vista regolamentale devono esserci ok però anche se io vado a produrre il pane quindi il pane di casa metterò tra gli ingredienti quello che viene utilizzato ovvero farina di grano lievito sale e acqua quindi questi sono i quattro ingredienti per produrre il pane e quindi l'etichetta mi informa su quelli che sono gli ingredienti utilizzati ma non mi può andare a specificare se quel grano è stato trattato con fitofarmaci o pesticidi che poi io mi vado a ritrovare nell'alimento ok quindi come questi passaggi in natura li vogliono abolire li stanno eliminando veramente? allora diciamo che c'è stato un periodo dove c'è stato proprio un abuso di utilizzo di queste sostanze penso ad esempio al glifosato che è un antitumorale che è stato strautilizzato per i meri profitti economici di soddisfare le richieste di persone che devono mangiare e che non hanno più un orto in cui poter fare i propri ortaggi i propri grani ma c'è l'investimento cioè quello che facevano i nostri nonni di prodursi tutto in casa era altissimo ma fondamentalmente si faceva solo questo adesso i tempi sono cambiati e quindi il compromesso dell'industria alimentare è stato quello di utilizzare talmente tante sostanze che oggi piano piano stiamo tornando indietro e non dico privarcene però entrarci in contatto il minimo indispensabile che possa riuscire a unire un'esigenza di sicurezza relativa all'alimento e quello che realmente nutre e alimenta il nostro corpo quindi non è semplice anche per l'informazione per informarsi su queste cose noi come consumatori dobbiamo investire delle energie e il paradosso del nostro tempo è che ormai online troviamo talmente tanto che non ci capiamo più niente perché le informazioni sono tante contrastanti e quindi verificare la fonte delle informazioni è fondamentale lo stiamo vedendo adesso in questo periodo sempre di più stiamo imparando anche questo non credere subito al titolo ma andare a fondo di ogni verità scritta andare a fondo come la natura stessa ci insegna torniamo agli oli essenziali quindi torniamo agli oli essenziali e a tutto quello che crea oli essenziali di questa stagione autunnale che ci può poi aiutare a prepararci sempre per difenderci dagli attacchi esterni quindi potenziare il sistema immunitario ce ne sono diversi sicuramente se vogliamo fare un collegamento anche tra quello che è l'aspetto che il particolare momento della stagione ci suggerisce è quello proprio di rivolgerci verso due grandi famiglie da una parte i fiori e dall'altra gli alberi i fiori perché comunque i fiori portano la maggior parte degli oli essenziali provenienti da fiori portano comunque uno stato di benessere e di relax i fiori venivano utilizzati in tutte le cerimonie sia quelle religiose che in quelle popolari e ad esempio anche il matrimonio questo mazzo di fiori il bouquet il simbolo è che comunque quel fiore produce un profumo che tende a calmare la sposa la famiglia in questo grande cambiamento quindi siamo in una stagione che ci mostra palesemente il cambiamento è un momento in cui dall'estate quindi dalle feste dalle vacanze cambiamo e torniamo in ufficio al lavoro e a scuola e il fiore è proprio il simbolo del cambiamento il fiore sboccia non lo sa bene qual è la sua funzionalità però è quella parte della pianta che deve vivere l'attimo perché un fiore non è per sempre è il momento in cui la pianta si fa bella e quindi ci aiuta anche a viverci il presente ad abbassare gli stress e l'ansia che sono generati fondamentalmente da quando viviamo o nel passato quindi rimuginiamo su quelle che sono state le nostre emozioni passate o nel futuro che non serve né pensare al passato né pensare al presente perché noi stiamo vivendo un unico momento che è quello di qui e ora e questo è il messaggio che ci portano i fiori e dall'altra parte invece gli alberi ci mettono in connessione per la loro altezza col cielo e con la terra ed è esattamente ciò che ci vuole suggerire la costellazione della bilancia e qui ti faccio fare un po' di pausa per la dottoressa Cristina perché in collegamento abbiamo una cara amica che se non sbaglio conosci abbastanza bene la Federica Federica Silenzi che come ogni eccola a proposito di colore autunnali e io so ci siamo abbinate oggi sì anch'io devo sperimentare un colore diverso adesso devo vedere mi devo documentare la fede ciao a tutti buon pomeriggio a te cara hai visto che bel argomento che stiamo toccando sì infatti io diciamo che oggi ho scelto delle mete proprio correlate in connessione con quello che state dicendo e vi prometto e vi dico una cosa che non ci mettiamo d'accordo questa è una cosa bellissima vuol dire che tutto fluisce correttamente perché Cristina parlava di alberi vogliamo esordire con la foto perché la nostra fede ci porta in giro per le marche in posti istagrammabili che praticamente possiamo visitare farci piacere così raccontiamo il territorio conosciamo il territorio ma essendo una social media riesce a insegnarci anche qual è la foto giusta e guardate che foto benissime che ha fatto di questi borghi dovrebbe esserci la foto di un gigantesco albero adesso ci spiega il luogo dove come e perché ecco qui allora ci troviamo a Canfaito diciamo un'area in provincia di Macerata diciamo comune di San Severino Marche proprio vicino al monte San Vicino e c'è questa questo faggeto meraviglioso che proprio in autunno visto che siamo entrati in questa stagione meravigliosa è diciamo una meta davvero ambitissima da tutti molto molto instagrammabile quindi una figata proprio guardate che bellezza e diciamo che passare una giornata a Canfaito è come un po' risvegliarsi in un mondo incantato sembra un posto proprio da favola davvero meraviglioso io ci sono stata molte volte ho fatto anche un servizio fotografico quando ero incinta proprio la prossima volta ti mando le foto mi sono dimenticata perché erano foto un po' vecchie però è una zona bellissima un'area meravigliosa perché diciamo è veramente descriverla è difficile bisognerebbe proprio andarci ovviamente nella stagione autunnale adesso è troppo presto andare adesso perché non vedrete questo spettacolo trovate proprio questa coltre di foglie rossicce giallastre che creano un ambiente davvero da fiaba da Walt Disney no? proprio quello che diceva Cristina poco fa vero Cristina? la magia degli alberi che si rigenerano che lasciano questo manto colorato particolare che è veramente fiabesco romanzato sì decisamente poi mi ha riportato alla memoria quell'immagine una visita che feci in South Carolina quindi negli Stati Uniti ad Angel Oak che è un posto circondato da da querce e ce n'era una imponentissima quindi vedere quella bellissima immagine mi ha proprio riportato lì quasi di questi giorni non era propriamente autunno quindi non ho potuto ammirare quei bellissimi colori ma un attimo vedendo le immagini ho fatto un tour nei ricordi bellissimo come si arriva al borgo quanto tempo ci vuole cosa c'è da vedere anche Fede? allora con l'auto potete parcheggiare proprio vicinissimo a questo diciamo alla zona più bella questa non è una foto mia che ho preso da un fotografo qui marchigiano quindi ci tenevo a dirlo perché non vorrei assolutamente creare problemi questa è una foto si vede di un certo livello è fatta credo proprio nelle prime ore della giornata comunque si parcheggia a pochi metri da questo faggeto e poi ci sono dei percorsi si può fare anche una bella passeggiata troverete anche delle mucche al pascolo quindi anche natura flora e fauna è bellissimo e potrete fare una passeggiata di qualche chilometro per mirare anche diciamo il faggio più antico più vecchio di questa di questa distesa non andateci durante il weekend perché sarà sicuramente affollatissimo se riuscite andateci durante la settimana perché troverete un po' di quiete e sicuramente riuscirete a fare delle foto super belle perché tantissimi fotografi tantissime modelle vanno in questo posto a fare degli shooting quindi mi raccomando durante la settimana onde evitare assembramenti questo borgo era Canfaito giusto? sì questo era Canfaito le mete che vi propongo oggi sono tutte molto vicine fra loro quindi in una giornata si possono fare una giornata bello sì a fare l'intero itinerario perché tutte e tre le mete si trovano distanti l'una all'altra di 10 km al massimo quindi dopo Canfaito questa distesa fiavesca passiamo a un'altra località meravigliosa che si chiama Barraccano che è detta la città dei murales è un borgo bellissimo unico nel suo genere dove troverete proprio tantissimi murales proprio sulla via principale questi murales sono stati fatti da moltissimi studenti dell'università di Brera l'università di Macerata Milano eccetera eccetera e è davvero suggestivo perché cammini in questa vietta perché poi il borgo è davvero piccolo 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 e puoi incontrare tantissimi murales tutti differenti fra loro unici alcuni più belli di altri ma poi tutto soggettivo e se andate a visitare questo borgo vi consiglio assolutamente di andare a mangiare nell'unico ristoro che si trova qui questo è il lupo che vi dà il benvenuto io abito qui che bello che c'è davvero io l'ho incontrato io abito qui come? io abito qui quindi tu hai avuto un incontro ravvicinato con il lupo? sì 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 poco distante da questo murales c'è questo lupo che diciamo ovviamente è legato e tutto però potete ammirare anche il lupo poi c'è questo ristoro che vi dicevo che si chiama il murales dove è molto piccolino ma si mangia divinamente quindi andate lì a stomaco vuoto perché poi vi rifocillate al rifugio il murales se ne vale proprio la pena è davvero carinissimo questo borgo io l'ho amato tanto e poi proprio in questa zona è stata fatta anche un evento di Risorgimarche qualche anno fa infatti io c'ero capitata per caso mi sembra proprio il concerto di giovanotti è stato fatto da quelle parti quindi davvero carina e mi sembra che da Canfaito più o meno sono 12-13 km quindi potete fare tutto in giornata assolutamente brava Fede vedi io poi mi innamoro vorrei non posso trovare il tempo per fare tutte queste cose visitare tutti questi borghi ne sono tanti e adesso che hai citato Risorgimarche mi viene in mente Marche Storie che ha avuto un successo esorbitante quest'anno e sono contenta ho avuto il modo e la fortuna di poter vivere l'esperienza di Palmiano Venarotta wow sì sì è stato bellissimo fra briganti brigantaggio e natura perché il percorso si è svolto all'interno di un bosco e poi abbiamo finito in bellezza col concerto di Eugenio Bennato con diversi canti dedicati al brigantaggio ma questo è il nostro territorio Marche Abruzzo felicissimi e orgogliosi di poter vedere tanta bellezza poi anche reinterpretata perché non c'è solo tradizione ecco i murales sono la testimonianza di un qualcosa che si modifica passaggio dopo passaggio anzi che cerca di accogliere vero? sì diciamo che loro questo borgo grazie a questi murales così colorati così pieni di poi ognuno può anche un po' identificarsi su questi murales infatti c'era un murales in particolare che mi assomigliava io ho postato la foto ho detto ma non sembro io abbiamo mandato la foto è una specie di sirena con questi capelli rosa l'ho notata anch'io in effetti è vero è vero rimanda la regia è davvero bello un po' identificarsi in questi colori cioè è un borgo che ti ti trasmette tanto nonostante eccola non sono io cioè è palese avevo scritto infatti che avevano dedicato questo murales a me ma non è vero era una battuta e le persone ci hanno creduto però ci tengo a dire che non è andata così che già c'era e che la nostra fede è una burrona è fantastica lei è endorfina no cortisolo con la vita che fa con il modo di poter sviluppare sempre solo endorfine ecco qui il risultato ecco se vivete senza cortisolo il risultato lo avete qui in studio con Cristina in collegamento con la sede ma manca un borgo terzo ed ultimo borgo sempre questo proprio è vicinissimo a Canfaito forse sarebbe meglio come prima tappa prima tappa questa che vi sto per dire Canfaito e poi Braccano per fermarci per il pranzo è il Cito il Cito viene chiamata il Tibet delle Marche è un borgo penso di 5 abitanti 6 non lo so addirittura sì proprio quasi disabitato ma non disabitato e viene chiamato il Tibet delle Marche oppure la bella addormentata perché qui tutto tace non prendono neanche cellulati è davvero un borgo cioè il tempo si è fermato in questo luogo sono tutte case in pietra ci sono poi tantissime anche foto che raccontano un po' la storia di questo borgo si respira un'aria strana cioè particolare è tutto veramente suggestivo non è difficilissimo da descrivere perché è come se veramente il tempo si sia fermato ci sono tutti questi scorci queste case in pietra particolarissime è una quiete proprio relax è tutto veramente suggestivo quindi dovete assolutamente andarci perché non riesco a rendere l'idea con le parole ci sono anche dei B&B qui a il Cito quindi se vi volete fermare a dormire nella quiete più totale potete farlo è un posto davvero super particolare cioè credo che nelle Marche non ci siano posti così veramente ci sono cinque abitanti penso meno di dieci sicuramente coraggiosi di questi tempi veramente forse è una grande voluminare chi lo so è brava è una grande verità chi può dirlo bravisco mi confermi Cristina in questi posti come l'ultimo che ha menzionato Federica è l'energia che converge ci sono situazioni che magari possono in qualche modo adesso non so a che altitudine sono esattamente però più ci alziamo in altitudine dal livello del mare più siamo vicini alla pace nel senso che veniamo condizionati meno da quello che è il caos c'è una disciplina antichissima anche qui il feng shui che si ci insegna a disporre l'arredo nel luogo in cui viviamo ma in Cina veniva considerato proprio dove costruire comunità in base alla conformazione del luogo quindi ad esempio Ascoli ha una sua conformazione la vediamo accolta da queste colline e quindi anche i suoi abitanti sono molto protettivi e custodiscono magari le loro idee le loro famiglie i loro progetti mentre chi vive quindi ci sono queste assonanze dissonanze a seconda la geolocalizzazione di un posto assolutamente poi anche perché io ho la passione dell'astrologia anche a livello astrologico ad esempio per Cecco d'Ascoli Ascoli appunto è firmata da un'energia della Vergine quindi la Vergine come segno zodiacale ecco e c'è un mondo veramente continuiamo mi piace dovresti fare un abbinamento Borgo che vai segno che trovi e in qualche modo costruire dietro l'identità no? io ci sto anch'io è l'energia ecco sicuramente sarà molto divertente e Cecco d'Ascoli ha fatto proprio un profilo preciso di tutta l'Italia con l'associazione alla costellazione e le caratteristiche dei suoi abitanti proprio anche non a caso anche nell'antico Egitto comunque loro che non avevano telescopi non avevano niente erano riusciti a mappare sono i più grandi topografi del pianeta perché senza nessun tipo di strumento erano riusciti a definire i confini di alcuni territori in maniera ineccepibile Keope, Kefren e Micerino sono costruite esattamente lineate seguendo determinate costellazioni che adesso non ricordo il nome ma il calcolo dopo 4000 anni è perfetto ad esempio anche molte basiliche in giro per l'Europa sono posizionate in una modalità tale che vise dal satellite riformano la costellazione della Vergine e qui torna l'astrologia e il simbolo a cui è associata anche la Vergine Maria quindi è estremamente affascinante Federica di che segno sei? Io sono una pesciolina ascendente ariete con luna in gemelli brava hai detto esattamente le tre cose determinate dove è il sole dove è l'ascendente e dove è la luna bellissimo e adesso ti deve fare il suo quadro astrale ricollegando tutto però rimani collegati con noi Federica perché adesso Cristina ci suggerisce quali sono gli oli essenziali idonei a questo nuovo bilanciamento a questa la rinascita preparazione alla rinascita che ci permette appunto di entrare in punta di piedi con l'autunno in questa nuova fase gli oli che io suggerisco sono estremamente abbinati anche non vorrei essere ripetitiva però all'astrologia perché comunque ho capito che ci dà una chiave di lettura interessantissima anche come simbolo quindi noi che viviamo sulla terra prendiamo in considerazione il movimento dei pianeti per ricevere quelli che sono dei delle associazioni siamo fondamentalmente individui che ragionano con i simboli e io non posso tener conto di questo aspetto e poi andando a vedere la ricerca vedo che è proprio un metodo infallibile quindi abbiamo parlato di oli essenziali di alberi contraddistinti dalla firmatura dalla signatura planetaria di Saturno che ci danno struttura ci collegano collegano il cielo con la terra e gli oli essenziali di fiori quindi possiamo considerare l'olo essenziale di camomilla di lavanda di gelsomino così come alberi come il cedro il cipresso e altro io in modo particolare più che prendere in considerazione tutti questi oli ormai ho iniziato a trovare delle risposte anche in quelle che sono delle vere e proprie miscele calibrate ad hoc con degli oli essenziali questa ne è una si chiama Balance è tra le mie miscele preferite è la miscela riequilibrante contiene al suo interno tre oli di alberi e tre oli di fiori abbiamo la bete il legno di o e l'incenso che sono tre alberi che portano a un vero e proprio radicamento se siamo persone che abitualmente pregano o fanno yoga o meditazione questi tre alberi questi tre oli essenziali possono darci una centratura e una stabilità tale da riuscire a mantenere la concentrazione sulla meditazione e altro il tanaceto blu la camomilla e lo smanto qui vediamo l'effetto che può avere questa miscela sul nostro organismo è stato fatto praticamente questo la cosa che a me affascina negli oli essenziali è proprio che oggi riusciamo ad avere anche un'evidenza scientifica qui vediamo a sinistra l'osservazione al microscopio dei globuli rossi in un individuo sano e appaiono come potete vedere impilati gli uni sugli altri i globuli rossi hanno la stessa forma delle orecchiette che utilizziamo per fare le orecchiette con le cime di rapa ovvero una membrana che è stata privata dal nucleo e quindi più stretta al centro e più cicciottella all'esterno se vogliamo parlare in termini semplici e a sinistra vediamo come queste strutture queste cellule si impilano a causa di particolari cariche elettrostatiche di cui si caricano queste cellule e se pensiamo alla funzione dei globuli rossi che è quella di trasportare l'ossigeno trasportare i nutrienti gli ormoni del nostro organismo diventa importante comprendere come invece a destra è la versione più funzionale per il nostro organismo quindi a destra vediamo come dopo aver messo una goccia di olio essenziale di balance sotto la pianta dei piedi dello stesso individuo rifacendo l'esame al microscopico i globuli rossi appaiono ben separati gli uni dagli altri più fluidi e con una maggiore superficie di contatto quindi con una maggiore possibilità di trasportare questi nutrienti per questo la miscela ha preso secondo me il nome di balance perché quando noi ossigeniamo bene i nostri tessuti riusciamo a distribuire in maniera ottimale gli ormoni nel nostro corpo così come i nutrienti siamo più bilanciati più bilanciati dal punto di vista emozionale più equilibrati dal punto di vista di far bisogno nutrizionale e tanto altro quindi oggi possiamo vedere come un'antica disciplina che è quella dell'astrologia come scienza studiata nelle più antiche università della Grecia insieme alla matematica e ad altro a livello proprio concreto con gli strumenti che abbiamo oggi che può essere appunto il microscopio elettronico ci mostra come siano estremamente utili balance è una miscela che si ha quell'effetto immediato perché essendo una miscela di oli essenziali agiscono in pochissimo tempo ma tu bilanci e studi tutte le varie proporzioni tra le proprietà diciamo che c'è un'equipe scientifica che formula le miscele noi possiamo abbinarli in base al nostro intuito seguendo comunque dei particolari libri di testo che ci spiegano quelle che sono le sinergie utili e le sinergie meno utili ma allo stesso tempo siamo in grado di avere una formulazione calibrata e balance ci dà proprio radicamento e concentrazione è quella miscela che riesce a connettere il nostro emisfero destro con l'emisfero sinistro quindi la possiamo utilizzare anche per lo studio quando abbiamo bisogno di creare e far unire questi due mondi della creatività e dell'analogia chiamiamolo del ragionamento per ottenere un massimo risultato il giusto bilanciamento bilancia e si chiude così in bellezza cara Federica dove ti ritroviamo cosa bolle in pentola dove dove scappi in queste giornate ancora un po' calde nonostante ecco appunto oggi si è entrato l'autunno però non si direbbe perché oggi c'erano piacevolissimi 26 gradi l'altro giorno 31 quindi mi godo questi ultimi spiragli di luce domani vado a fare la mia ultima escursione sulla riviera del Conero andrò alla spiaggia della Vela che è una delle più belle diciamo della riviera quindi domani mi tocca mi godo questo ultimo sole portaci con te nel cuore sicuramente saremmo lì con te e sicuramente poi dopo mercoledì prossimo ci farai sbirciare un po' di fotine certo faccio uno screenshot faccio una fotina così vi posto va bene? oh certo come ricordo Federica è eccezionale sempre sul pezzo sorriso in diretta e andata ho fatto un casino dei miei la Federica mi raccomando Federica Silenzi ritrovatela su tutti i social e seguitela ci porta in giro per le marche Fede ci sei ancora? eccola ho bloccato il telefono invece di fare la foto ecco non riesco facciamo la foto velocemente ecco qui sorriso andata eccola eccola adesso la vediamo subito quindi se mettete il like alla pagina al profilo di Federica la Federica Federica Silenzi vedrete la foto indirettissima non vedo l'ora poi taggaci mi raccomando per sapere tutte le informazioni sui social come si tagga la giusta anche tu dottoressa Cristina sei diventata molto molto brava ci provo in un anno tante cose sono successe il tuo canale youtube che va benissimo insomma tanti che ti seguono e ti fanno domande voi poi dopo rimanete in contatto che è nata una nuova sinergia assolutamente perché sei bravissima veramente stupenda fantastica lo dico col cuore veramente hai una comunicazione proprio diretta semplice e comprensibile per tutti nonostante tu tratti temi comunque molto complessi ecco grazie brava pure tu ciao Federica ciao Cristina noi rimaniamo qui collegati perché adesso si parla di gentilezza a proposito pubblicità grazie a tutti grazie a tutti